Musica 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 Ingresso in campo Seconda giornata Summer Cup Gillingham contro le Iene Con le squadre che si dirigono al centrocampo Abbia l'incontro Antonio Manzone Da questa parte Maggia blu scura In Gillingham In Maggia rossa Le Iene Quello saluto per il pubblico presente al Kennedy Stadium E ora si salutano le due squadre Capitani con me per il campo per favore Ora ci sarà il tocco per due capitani Dalla parte Corona Per le Iene dalla parte Ok giro il fischio e scegli il campo Sceglono loro d'accordo? Quale campo signore? Questo vabbè Fallaci Scelti valli campo Possiamo chiudere il collegamento Ci vediamo dopo per il sito Inizio il primo tempo tra le Iene e Gillingham Risultati bene vantaggi e Gillingham Per una rete a zero Seguiremo tutto il primo tempo Sceglono Inizio il primo tempo Il caso del tempo Originale Come Inizio il primo tempo Lontano Ecrino Inizio il personale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.